La campagna toscana sbarca a Firenze, Expo Rurale, la chermesse tutta dedicata all'agricoltura che strizza un occhio al turismo, torna al parco delle Caccine e lo fa in grande stile. La parola chiave quest'anno è il buon vivere toscano, fatto delle sue carni ma anche del vino, dell'olio e dei formaggi che rendono da sempre la Toscana unica nel mondo. I numeri sono da capogiro, solo per farne alcuni sono 230, gli espositori di cui 160 produttori agricoli del mercato contadino, 10 le filiere corte tra cui il vino e l'olio, 170 laboratori, 32 ristoranti tutti targati vetrina toscana e 20 classi in visita per un totale di circa 400 studenti. L'inaugurazione è stata quella delle grandi occasioni, al taglio del nastro tante le persone sin dalla mattina a curiosare per gli stand. Si andrà avanti fino a domenica 21 settembre. L'assessore all'agricoltura Salvadori l'ha definita una grande scommessa anche per il turismo sostenibile ma si è spinto oltre. Expo Rurale ha detto può essere l'esempio per il lancio di una nuova idea di felicità. Da qui un'altra idea, l'idea che tramite queste esperienze, tramite l'agricoltura si possa rilanciare un nuovo manesimo perché abbiamo bisogno di un ulteriore rispetto non solo della natura ma fondamentalmente dell'uomo, della persona umana e pienamente partendo dall'idea dell'esercizio della responsabilità che gli agricoltori fanno costantemente senza che nessuno glielo chieda in maniera diretta. La campagna rappresenta l'identità della Toscana nel mondo, il buon vivere delle sue colline, il buon cibo, il buon bere che diventano fonte di attrazione. È un rapporto della Toscana tutta con la campagna, con l'agricoltura che per la Toscana è un settore decisivo identitario. Io credo che noi siamo pronti, c'è stato un grosso lavoro anche da parte dell'assessorato, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio. Come ha detto anche il sindaco Nardella il problema è andare a Milano per portare poi in Toscana, le persone a visitarci e a venire a vedere cos'è davvero la capacità di questa regione di conciliare agricoltura, paesaggio, buon vivere, buona alimentazione, qualità dei prodotti, lavoro. Qualità della vita, questa è la richiesta pressante della società moderna in vista dell'esposizione universale di Milano dedicata a come nutrire il pianeta, la nostra regione si presenta con Expo Rurale come laboratorio internazionale del buon vivere.